Cambio palco e siamo giunti all'ultimo momento di questa prima serata, vi ricordo che siamo alla quinta edizione di Conversazioni dal Mare ed è giunto un bel momento. A proposito c'è il firma Coppia adesso, quindi se qualcuno ha voglia di farsi autografare il libro di Zatti è qui alla mia destra il piccolo banchetto della Mondadori. Nel frattempo c'è un cambio anche qui sulla nostra pedana e andiamo a presentare i nuovi protagonisti. Nicola Laggioia, affermato scrittore italiano, oltre ad essere conduttore radiofonico e direttore del Salone Internazionale di Torino dal 2017. L'esordio avviene con un libro nel 2001, tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi. Tanti libri sono seguiti a questo, ne ricordiamo uno nel 2015, vincitore del premio Strega, La Ferocia. Questa sera invece ci presenta il suo ultimo libro, La Città dei Vivi, e dialoga con Giusy Frallonardo, attrice, regista, drammaturga, conduttrice televisiva, produttore teatrale e un volto di Telenorba. Quindi chiamo sul palco Nicola Laggioia e Giusy Frallonardo con lo spot che arriva in questo momento. Parte lo spot. La Città dei Vivi ruota intorno a un fatto di cronaca abbastanza terribile. C'è un intellettuale del sud che vive a Roma. Benvenuti alla 32esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Eccoci qua, Giusy Frallonardo, Nicola Laggioia. Non prendete posto, vi chiedo di rimanere un attimino in piedi con me perché sto per chiamare sul palco e dare il benvenuto ad Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo e Economia della Cultura e Valorizzazione del territorio della Regione Puglia. Aldo Patruno, un microfono per Aldo Cortesemente ed un saluto istituzionale. Mamma mia, è terribile il saluto istituzionale prima di Nicola Laggioia. Tutti attendono di sentirlo. Ci mettiamo qui ma ci sta. Solo un commento perché viene facile, adesso si parla di ripartenza Nicola ma è un momento nel quale questa Regione sta ripartendo fortissimamente, sta ripartendo dalla cultura e sta ripartendo dalla lettura e dai libri. Se ci pensate da qualche giorno a questa parte, in realtà dal 29 maggio quando c'è stata l'apertura dei cancelli, tutta la Puglia è punteggiata da nord a sud di eventi culturali, letterari e legati al libro. Inutile che li citi, queste conversazioni dal mare sono l'ennesima espressione straordinaria di una Puglia che si unisce intorno alla lettura e di questo non possiamo che essere orgogliosi. E in questo senso vi porto il saluto istituzionale mio, di Regione Puglia, dell'assessore Brai e del presidente Emiliano. Ma ce ne vogliono di questi eventi, magari ce ne fossero tanti, ancora di più. Ce ne sono, ce ne sono, non riusciamo a star dietro agli eventi che stanno partendo in maniera vorticosa e devo dire con un entusiasmo da parte degli organizzatori, degli intellettuali, degli artisti, degli scrittori e così via dicendo che ci apre veramente il cuore, che ci dà davvero il senso di qual è la prospettiva di ripartenza di questa Regione. Aldo, io rubo ancora due minuti a Giussi e a Nicola perché c'è una sorpresa, c'è una sorpresa stasera, io ecco qui che arriva. Ah, meno mai, perché le sorprese di solito uno ha paura delle sorprese, non è detto che siano belle. No, è una sorpresa, spero piacevole, intanto lo consegniamo ad Aldo perché lo consegnerà, devo partire con quella che è la motivazione, premio Conversazioni dal mare 2021 a Nicola Laggioia. Ah, vedi, è una vera sorpresa. Autore, scrittore e intellettuale poliedrico. La sua poetica struggente, sensibile e raffinata racconta con precisione i limiti, le contraddizioni, i dolori connaturati alla condizione umana senza indulgere in affrettati giudizi sulle condotte dei singoli, ma utilizzando il racconto allo scopo di comprendere la complessità dell'esistenza. Il suo tratto distintivo è uno sguardo attento, spesso feroce, sulla realtà che ci circonda, tipico dei grandi narratori italiani che hanno saputo al meglio raccontare le trasformazioni, spesso turbolente, del mondo e della società. Tra le massime espressioni della letteratura contemporanea, assai significativo è il suo contributo alla crescita culturale del nostro paese, sia come scrittore di successo, sia come direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Orgoglioso delle sue origini baresi, spesso richiamate nei suoi scritti, Nicola Laggioia è per noi ambasciatore del genio, della creatività e dell'inventiva pugliese, in Italia e nel mondo. Un'eccellenza di cui essere fieri! Grazie! Consegna il premio Aldo Patruno! Grazie, grazie Aldo! Aldo, di nuovo, quindi ti sei trovato nel momento giusto, nel posto giusto, primo premio tra l'altro, dopo qui, alla quinta edizione, alla quinta edizione è la prima volta che Artemia, organizzatrice di questo evento, consegna un premio e sei il primo in assoluto a riceverlo. Adesso noi andiamo via, vi lasciamo comodamente su questo palcoscenico con il vostro racconto. Grazie! Buonasera a tutti, tu sei abituato ai premi, perché il tuo primo romanzo, che veniva prima citato, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi, che è il tuo esordio letterario, vince un premio, vince il premio dello straniero, e tutti gli altri. Quel libro lì, effettivamente, fu un esordio abbastanza bizzarro. Quel libro, appunto, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi, che in realtà non so neanche chi l'abbia scritto, perché vent'anni fa ero veramente un'altra persona. Però ricordo il... Ah, ecco. Mettiamo qui in balanza. Vabbè. Allora, continuiamo. Stavo dicendo, ricordo però la data in cui quel libro uscì, perché uscì l'11 settembre del 2001, pensa a te. Quindi, io me la ricordo perché il primo libro, per vanità, insomma, si può immaginare che lo scrittore, molto giovane all'epoca, volesse vederlo in libreria, quindi mi ricordo che andai l'8, il 9, il 10 settembre, non c'era il libro in libreria, l'11 settembre arrivò il libro in libreria, tornai a casa, accesi il televisore e capì che il giorno dopo non si sarebbe parlato del tuo libro. Però il premio che vinse quel libro è un premio di cui vado molto orgoglioso, il premio lo straniero, perché è il premio che assegnava e assegna tuttora una rivista che non c'è più perché è stata chiusa dal suo fondatore, che è Goffredo Fofi, che per 15 anni, anzi per più di 15 anni, tende in piedi questa piccola rivista letteraria, che però, come tutte le riviste letterarie che sono valorose, riusciva a intercettare una decina d'anni prima ciò che dieci anni dopo poi si poteva leggere sul Corriere della Sera, su Repubblica, sapete come sono le cose, le riviste diciamo d'avanguardia catturano una cosa, dieci anni dopo se ne accorgono i giornali, 50 anni dopo se ne accorgono, forse ecco l'università è l'ultima di solito ad accorgersene, e poi siano canonizzati o meno, quindi insomma vinse quel premio lì. E però tutti i tuoi libri hanno vinto dei premi, io ti dico... Ma posso dire una cosa? Sì. Io sono felice che i libri vincono i premi perché questa cosa qua aiuta con il lettore, eccetera, eccetera, però neanche li sopravvaluterei troppo i premi, no? Pensate, ci sono grandi scrittori che non hanno vinto premi, no? I tre più grandi scrittori del Novecento, Proust, Joyce e Kafka, non hanno vinto premi, quindi fanno piacere perché avvicinano i libri ai lettori, però come dire, l'autostima di uno scrittore non è soddisfatta mai, perché scrivere un libro significa, cioè non è come giocare a pallone, dove vinci o perdi una partita, devi sentire in continuazione l'alito del fallimento su di te, perché soltanto se un libro è buono o meno non lo determinano i premi, definitivamente, non lo determina il pubblico, lo determina il tempo e di solito quando il tempo decreta se un libro è buono o meno lo scrittore è morto, quindi è una faccenda che non si riesce a risolvere, diciamo così. Però devo dire che anche in vita uno può capire quando un libro è buono, io non frequento i premi letterali, invece frequento le librerie, a me è capitato di incrociare il tuo primo libro con Einaudi, cioè riportando tutto a casa e sono rimasta totalmente folgorata. E devo dire che è un libro che ancora oggi regalo e tutti quelli che lo ricevono e lo leggono rimangono ugualmente folgorati. Mi fa molto piacere. E quindi è una cosa che, insomma, anche da vivi. Questo libro qui, invece, che ho letto di recente, non pensando mai nella vita di poterti presentare e di poter parlare di questo libro, quindi sappi che le mie osservazioni o le mie domande sono esclusivamente da lettrice. Sono le migliori domande. Quando l'ho letto, mi ha tenuto incollata per giorni, non riuscivo proprio a staccarmi, dovevo pensare che c'era anche la vita in mezzo al libro, ed è una cosa difficile, perché poi non avevo tutto questo tempo, ma ero sempre lì. Piuttosto che andare in macchina prendevo un mezzo pubblico per poter leggere, cioè avevo questa perversione. È un libro che mi ha messo molto in crisi, mi ha fatto molto male, credo che sia un libro che faccia molto male, perché è un libro che parla di tutti noi in realtà. Però è difficilmente, come dire, inquadrabile. Che cos'è? È un romanzo? È un'indagine? È un libro sociologico? È un libro biografico? È in realtà tutte queste cose insieme. Io ti chiedo, che cos'è questo libro che parla di noi? Perché poi i due temi fondamentali sono Roma e l'omicidio, però attraverso queste due realtà si parla di noi, di te. È un'indagine sicuramente sul male, non su ciò che è successo, perché ciò che è successo è abbastanza chiaro. Il primo libro è una mia prima volta, perché ho sempre scritto romanzi, quindi storie inventate. Magari non era inventata la realtà che produceva queste storie, ma le storie erano inventate. In questo caso è il primo caso in cui mi occupo di un fatto verde, di un fattaccio, come si dice a Roma. Cioè è la storia dell'omicidio di un ragazzo di 23 anni. Un ragazzo di 23 anni, Luca Varani, nel marzo del 2016 viene trovato morto in un appartamento di quartiere Corlatino, dopo essere stato torturato per ore da due trentenni, che si chiamano Marco Prato e Manuel Foffo. Io mi ricordo benissimo quando vidi al telegiornale per la prima volta la notizia, era il 6 marzo, quindi due giorni dopo. E mi colpirono tutta una serie di cose. Mi colpì innanzitutto l'efferatezza di questo omicidio, sembrava quasi un omicidio rituale, che è un classico delitto metropolitano. La mancanza di un movente, cioè il fatto che non ci fosse nessuna ragione, nessun vantaggio che potessero ottenere, anzi potevano solo rovinarsi la vita nell'ammazzare una persona che o conoscevano a malapena, come nel caso di Marco Prato, o addirittura non conoscevano affatto, come nel caso di Manuel Foffo. Quando due giorni dopo Manuel Foffo, questo ragazzo, confessa al papà l'omicidio, tra l'altro pensate, confessa l'omicidio mentre stanno andando col padre al funerale di un parente. Quindi, cioè, io se me la fossi inventata, se fosse stato un romanzo di invenzione, una scena del genere, non l'avrei mai messa, perché è del tutto inverosimile, soltanto la realtà può prendersi il lusso di essere così inverosimile. Quando appunto il figlio confessa al padre, abbiamo ammazzato una persona, e il padre gli dice, no non dice, dice abbiamo ammazzato una persona, e il padre gli dice, ma chi sarebbe la persona che avete ammazzato? Lui risponde, non lo so, ed è vero, non lo sa. A quel punto il padre si convince che non sia vero, cioè perché è più facile immaginare che tuo figlio sia un mitomane, che non che sia un assassino. E qua c'è il terzo elemento, cioè, non si tratta di un omicidio maturato in un ambiente criminale, perché un criminale lo mette in conto, il fatto di poter avere a che fare con la giustizia, con la violenza, col carcere, questi due erano due ragazzi considerati normali, anche da se stessi. Se gli avessero detto a questi la settimana prima, che si sarebbero trovati la settimana dopo in carcere, per aver fatto una cosa del genere, non ci avrebbero creduto loro stessi per primi. L'altro elemento, forse l'ultimo, almeno a primo acchito, insomma, a prima lettura della notizia, è il fatto che sia Prato che Foffo, cioè i due assassini, parlano come se fossero degli spossessati. Cioè loro non sanno perché hanno fatto ciò che hanno fatto, il problema è che sono sinceri mentre lo dicono. Foffo dice ai suoi accusatori, dice al pubblico ministero, mettetemi in galera, datemi pure l'ergastolo, ma spiegatemi voi come ho fatto a fare ciò che ho fatto, perché io non me ne capacito. Cioè quasi che in loro il ponte che dovrebbe collegare, che di solito collega il nostro pensiero alle nostre azioni, fosse crollato. E allora ho pensato, cavolo, ci troviamo davanti a qualcosa veramente di nuovo, seppure di inquietante e di terribile, ma mi è sembrato un nuovo che mentre esplodeva in maniera esasperata, in maniera patologica, in maniera cruenta a quel livello lì, poi fosse, diciamo così, a basso voltaggio diffuso un po' ovunque. E questa è la percezione che si ha, cioè questa incapacità di creare ponti tra la razionalità e le azioni, in tutto il libro. È Roma che domina dappertutto, perché è l'altro grande protagonista di questo libro, insieme a Manuel, a Marco, a Luca e a tutto il mondo che gravita intorno a loro. Cioè i genitori, per esempio i padri, hanno una grande importanza nella tua analisi, perché il tuo libro fa anche una grande analisi di queste famiglie cosiddette normali, perché sono tre famiglie normali, due più borghesi, una un po' più popolare, ma famiglie normali, cioè il papà di Luca lo ha adottato, no? È un venditore di ambulante, di dolciumi, gli altri due sono una persona che lavora in istituzioni, un altro che invece si occupa di ristorazione, però sono famiglie normali. Quello che è, come dire, che manca è questo collegamento e a un certo punto tu lo fai dire ad uno dei personaggi che tu incontri, un ragazzo omosessuale che ti chiede perché ti interessi tanto questa storia e tu dici forse perché c'è qualcosa che mi riguarda e lui dice qualsiasi cosa sia non ti può riguardare perché questi ragazzi sono un'altra cosa, tutto quello che noi siamo loro non sono e per fortuna noi siamo il vecchio e il nuovo è loro se ne devono occupare solo loro. Quindi sembra davvero che ci sia una incapacità di collegarsi al mondo, cioè questo mondo che Roma rappresenta benissimo in questo libro non lo acciuffiamo più, o sbaglio? Allora, non lo acciuffiamo più, ma se non lo acciuffiamo più la responsabilità è nostra, perché dunque, prima parlavamo, abbiamo cominciato raccontando il mio primo libro che è del 2001 che è di vent'anni fa, sono vent'anni più vecchio rispetto a vent'anni fa e quindi un po' di cose cambiano, cioè io si comincia di solito da ragazzi a raccontare o storie di persone più grandi di te o storie di coetanei e poi si finisce a raccontare storie, man mano che diventi vecchio, che cresci, che diventi adulto, che passano gli anni, e questa è la prima volta che io racconto una storia di persone che sono più piccole di me. E quindi una responsabilità generazionale da questo punto di vista l'ho sentita, cioè se i ragazzi vivono in un mondo complicato, difficile, vuoto, perduto, eccetera, eccetera, quel mondo non lo hanno costruito loro, quel mondo lo hanno costruito gli adulti. E quindi quando qualcuno, io proprio non sopportavo quando ero ragazzo il paternalismo, era una cosa proprio che per me è insopportabile, come non sopportavo quelli che ritenevano che la propria generazione fosse l'ultima, perché c'è una grande arroganza e una grande tracotanza nell'immaginare una cosa del genere, come non sopportavo e non sopporto, adesso che sono adulto, chi appunto se la prende con i ragazzi in quanto ragazzi, chi se la prende con i giovani in quanto giovani dovrebbe prendersi innanzitutto con se stesso, perché quel mondo lì in cui vivono non lo hanno costruito loro. Al tempo stesso però non bisogna neanche, come dire, mettersi del tutto in croce ad adulti, perché se ti metti del tutto in croce, cioè se pensi che è tutta responsabilità tua, e allora gli stai togliendo, e non glielo potresti fare, e non glielo puoi fare, l'autodeterminazione. Quindi diciamo che, e forse il Covid questa cosa qua un po' ce l'ha insegnata, cioè il fatto che tutte le cose che succedono prevedono una compartecipazione, è di responsabilità e di meriti. Quindi questo è, i destini dei ragazzi, i destini degli adulti sono legati a doppio filo. Marco Manuel e Luca, che però non metterei sullo stesso piano, perché due sono i carnefici e l'altra è la vittima, effettivamente nascono, hanno dei problemi familiari, dei conflitti con i genitori, eccetera, eccetera, ma come tu giustamente dicevi, alla fine non sono famiglie patologiche, sono famiglie normali. E quindi questo, cioè non c'è un grado di esasperazione tale del conflitto familiare che può farci pensare che quella roba lì sia responsabile di ciò che hanno fatto Marco e Manuel. Quindi si sono strafatti di cocaina prima di ammazzare Luca Varane, se non si fossero fatti di cocaina in quel modo lì non sarebbero diventati così aggressivi e così violenti, però non è che la cocaina da sola spiega questa cosa qua, perché considerando qual è il consumo di cocaina nelle città italiane, da Milano a Napoli, a Roma, a Bari, ci dovrebbero essere 10.000 omicidi al giorno, quindi anche quella roba lì spiega ma da sola non è sufficiente. E allora forse un libro, io pensavo, può provare, non a dare una spiegazione di ciò che non è spiegabile fino in fondo, ma può provare, perché questa è la strategia ritorica della letteratura, a sollevare le domande giuste. Per me è stato abbastanza complicato scrivere questo libro all'inizio, perché era la prima volta, cioè io di solito quando scrivo un libro comincio dalla scrittura, cioè comincio a inventarmi una storia, qua invece ho dovuto cominciare dall'indagine, cioè sono dovuto uscire di casa, uscire, come si dice oggi, dalla mia comfort zone e cominciare a incontrare le persone, ed erano persone a cui era capitata una tragedia. Quando c'è un omicidio o una tragedia del genere è come se l'omicidio fosse un sasso gettato in uno specchio d'acqua che crea tutta una serie di cerchi concentrici, l'ultimo cerchio concentrico è il limite estremo, il confine della famiglia disfunzionale, chiamiamola così, che queste tragedie creano intorno a sé. Tu devi bussare alle porte di quella famiglia per farti ammettere alla loro attenzione, cosa che ho provato a fare per un anno fino a quando mi hanno fatto entrare e quella è stata proprio un'esperienza per me formativa, cioè quella di incontrare i genitori della vittima, i genitori dell'assassino, gli assassini, il fatto di avere una corrispondenza con l'assassino, con tra i carabinieri, tutte le parti in causa di questo caso, quindi è stata anche un'esperienza umana molto forte. E poi c'è stata la scrittura. Una scrittura che è sempre fortemente connotata da letteratura, direi io, cioè la scrittura di Nicola Gioia, che è diversa rispetto a quella degli altri libri, è comunque una scrittura molto alta. Rispetto a quello che stavi dicendo, mi è venuto in mente l'episodio del colonnello Donnarumma, che non è ovviamente il nostro portiere della nazionale, ma è questo personaggio che a un certo punto, quando tu stai parlando con lui, a parte questa bellissima descrizione che fai del luogo, e quindi degli uomini e delle istituzioni, rispetto a quelli di potere, e poi a un certo punto gli racconti la storia e lui dice «Poveri ragazzi», disse a quel punto Donnarumma, il colonnello partiva dall'assunto che l'uomo è una creatura fragile e che solo un'etica prova di bomba e un'incrollabile forza di volontà gli impediscono a volte di sprofondare nel disastro. Del resto, quello che hanno intorno non aiuta, aggiunse, alludeva alla città». Torniamo sempre allo stesso punto, perché Roma è, come dire, la intrisa di questa cosa. Tu a un certo punto parli per l'appunto delle strade della cocaina, del fatto che a un certo punto sei lì in questa città e vivevi a Torino in quel momento, torni volentieri a Roma e senti che la città si rimpossessa degli spazi attraverso le strade della cocaina, perché questa città viene rappresentata fin dall'inizio come una città degradata, ma viva. Questa contraddizione la troviamo anche nei personaggi, in tutti i personaggi che tu racconti, perché i personaggi è come se avessero tutti una doppia faccia, cioè nascondessero qualcosa. Mi viene proprio in mente Luca, rispetto a questo, che alla sua fidanzata racconta una faccia di sé, ma poi gli amici che ha a Battissini sanno altro. Sì, il romanzo, non è un romanzo, è un'opera letteraria, effettivamente. Un'opera letteraria, sì. Non è un romanzo classico. Si intitola effettivamente La città dei vivi. La città dei vivi, se ci pensate, sembra un titolo in apparenza solare, la città dei vivi, la città del sole, però quando si finisce di pronunciare in bocca ha già un suono minaccioso. Se c'è la città dei vivi c'è anche la città dei morti, se c'è la città di superficie c'è la città sotterranea, se c'è la città a favore di sole c'è anche la città notturna. Ma questa città è Roma, che è una città che, se ci pensate, il libro comincia con un epigrafe del cinico per eccellenza a Roma, che è Giulio Andreotti, che dice non attribuiamo i guai di Roma all'eccesso di popolazione, quando i romani erano due, uno uccise l'altro. Ed effettivamente, se ci pensate, Roma è una città sorta 2700 anni fa da un fratricidio. Questa cosa è interessante, è una città al tempo stesso invivibile, perché è più facile andare da Roma a Milano che andare da Roma Sud a Roma Nord, perché veramente la città è grande, poi è gigantesca, non si capisce dove finisce. Credo che sia la città d'Europa con la maggiore estensione proprio, non con il maggior numero di città, ma con la maggiore estensione. Superi il raccordo, finiscono i palazzi, cominciano dei pratoni, dei pascoli, tu dici, vabbè, la città è finita. No, riprendono i palazzi, c'è un altro rione, c'è un altro quartiere. Dicevo, è invivibile per alcuni versi, ma è anche traboccante di vita. È una città dove c'è una facilissima socialità, dove le classi sociali, per esempio, sono molto permeabili. Non è così Parigi, non è così Londra, dove ci sono magari dei salotti in cui è impossibile accedere. A Roma tutti trovano il modo di incontrarsi con tutti, se soltanto lo vogliono. Vi ricordate la dolce vita? Marcello e i suoi amici uscivano di notte e potevano ritrovarsi a seconda di come il caso lanciava i suoi dati in un appartamento nobiliare oppure in un basso di borgata. Quando c'era l'indagine sul diritto Varani c'era anche questa inchiesta, vi ricordate, mafia capitale, l'ennesimo scandalo romano, dai tempi della Banca di Roma dell'Ottocento che ci sono ogni 3-4 anni uno scandalo romano. ma mafia capitale anche detta indagine sul mondo di mezzo perché in un'intercettazione telefonica c'era un indagato che diceva quella è la teoria del mondo di mezzo, ci stanno i vivi sopra, i morti sotto che si incontrano nel mondo di mezzo perché i secondi possono fare dei favori ai primi. Ma il mondo di mezzo a Roma esiste da sempre, sin dai tempi della Roma imperiale, quando tu ti ritrovavi con gli imperatori o le moglie degli imperatori che li andavi a recuperare nei bassi fondi della città. pensate a Elio Gabaro, a Messalina per dire che è una tradizione molto antica della città. È una città in cui è possibile fare esperienza come la Londra di Dickens, come la Parigi di Baudelaire. È interessante da raccontare anche se è una città da qualche anno senza bussola ma prima o poi sono convinto che si risolleverà perché Roma è morta e derisorta molte volte. Ha tutta una serie di difetti che però contengono dei pregi. Dicevo, è una città cinica, una città in cui ti dicono sempre che nulla vale la pena di essere fatto. Che stai a fare? Stai a fare un libro? Stai a fare una manifestazione? Stai a fare... Ti sei aperto una pizzeria, una gelateria? E che te credi di essere il primo? E queste cose ti sbontano in pochi secondi. Cioè, se Madonna, la cantante, nel suo periodo di maggiore successo si fosse trasferita a Roma, dopo tre settimane sarebbe diventata la sola Ciccone. Cioè, nessuno l'avrebbe più calcolata, più di tanto. C'è quella famosa pièce teatrale che si chiama Un marziano a Roma scritta da Ennio Flaiano che aveva capito tutto della città. No, perché in Marziano a Roma... Arriva un marziano a Roma. Tutti quanti. In Marziano a Roma. Si mobilita tutta la città per andare a vedere questo marziano che effettivamente... Eh, uè, è atterrato a Roma. Potrebbe atterrare a New York. No, è atterrato proprio a Roma. In Marziano, in Marziano... Cambio di scena. Passano tre settimane. Un uomo entra in un caffè, ci sta sto povero marziano che si sta bevendo il caffè, e l'uomo fa Marzia, scansate! Cioè, ormai è diventato un fesso qualunque. Questa cosa qui, che è una cosa abbastanza inquietante, no, nel... Poi io ho avuto anche un po' uno shock culturale quando sono arrivato da Bari a Roma... Lo scrivi perfettamente. Cioè, arrivo a Roma, cioè, i primi... A parte che non conoscevo nessuno, quindi pensavo, mo' mi consegnerò qualche mese di solitudine prima di ingranare. Ma no, ma dopo due o tre settimane non riuscivo a stare solo più di due o tre ore. Ma comunque, per dire lo shock culturale, vai al bar la mattina e dice, vale, un cappuccino e un cornetto. E poi il barista fa, dai a questo stronzo un cappuccino e un cornetto. Allora, a Bari, questa cosa qua è sufficiente per andare proprio di testa, no? di cominciare a fare attuzzi. Io pensavo, ok, ora ci batteremo con il barista. Invece no, quella è la, a sua volta, la strategia della città per avere a che fare con te. Cioè, quella di trattarti in qualche modo male. Ma in fondo, sotto questo cinismo, che io di per sé il cinismo non lo sopporto, perché io sono un levantino con uno spirito luterano, quindi per me invece tutto vale la pena di essere fatto. Cioè, ogni impresa vale la pena di essere tentata se è appunto un'impresa in cui tu credi. sotto questo cinismo, però riposa anche una segreta saggezza, perché è come se la città eterna fosse anche una città molto consapevole che nulla è eterno, che tutto passa, che siamo provvisori e quindi nessuno si può montare troppo la testa, proprio perché siamo di passaggio. Questa cosa è molto interessante. E il colonnello Donnarumma, che appunto non è il portiere della nazionale che tu citavi, è un personaggione, un personaggio reale, in effetti, che mi disse su questo omicidio di una cosa interessante. Cioè, lui mi dice una cosa che anche qua, all'inizio è sempre una battuta, a me proprio mi spiazza, dice, guarda Nicola, tu adesso andrai avanti, acquisirai gli atti, farai le interviste che devi fare, noi carabinieri ci adopereremo perché la legge abbia il suo seguito, eccetera, eccetera, però se vuoi un consiglio, io ti consiglierei di leggere questo caso anche come un caso di possessione, dice, io da laico mi sembra un po', molto religioso di colonnello Donnarumma, ma in realtà anche su questa cosa qua io ci ho riflettuto, cioè il male come possessione, anche se tu lo togli dalla cornice religiosa, è un concetto che continua a, cioè non lo vuoi leggere in maniera religiosa, la vuoi leggere in maniera darwiniana, funziona, perché se voi ci pensate che cosa significa che il male è una forma di possessione, per noi esseri umani, per millenni, la violenza per noi è stata purtroppo una garanzia per la sopravvivenza della specie, se volevamo sopravvivere dovevamo essere violenti, come quegli animali là, che però sono domesticati, non hanno bisogno manco loro più di essere violenti, dopo molti secoli, dopo millenni, non viviamo più in un mondo per fortuna in cui per sopravvivere fisicamente abbiamo bisogno della violenza fisica, ma i nostri cambiamenti proprio a livello biologico, a livello genetico, a livello appunto psicologico, sono molto più lenti rispetto a come invece evolvono i nostri sistemi organizzati e quindi quell'ombra lì, quell'istinto di prevaricazione, quella violenza originaria, noi ce la portiamo dentro. Beh, anche se non le esprimiamo fisicamente, comunque nella competizione, nello sgomitare, cioè comunque questa, sempre questa violenza di voler sopravvivere. Però vedi, siamo abbastanza intelligenti, per esempio nella competizione, pensa alla competizione sportiva, è un ottimo modo per sublimare quella violenza lì, fai una partita di pallone, nessuno si prende, al massimo ti rompi un legamento come mi è successo a me, giocando a pallone, però trovi il modo, capito, per sublimare quella cosa lì. il nostro compito non è quello di estirpare da noi quell'istinto lì, perché ce l'abbiamo, il nostro compito è quello di educarlo, di tenerlo a bada, di venirci a patti e di renderlo il più possibile innocuo. Stavo cercando, mentre parlavi, proprio un pezzettino in cui parli di Roma in questi termini, dici, la straordinarietà di Roma non stava nel richiamo della trascendenza, che solo gli idioti potevano sentire, ma nell'onnipresente consapevolezza che tutto è umano e tutto si corrompe. Era questa la lezione del passato, mai presente e più prezioso come quello di chissà di dover morire. Cioè, è proprio quello che stavi dicendo adesso, cioè Roma riesce a sopravvivere a se stessa. Invece, questi personaggi cambiano, i genitori cambiano, gli amici cambiano e poi c'è questa bellissima descrizione che tu fai a un certo punto dei ragazzi di Battistini, paragonandoli anche ai ragazzi di vita di Pasolini e dicendo che loro sono avanti rispetto ai loro amici, ai pariolini, perché ce lo vuoi spiegare? Sono passati quanti anni? Un casino di tempo. 50-60 anni da ragazzi di vita di Pasolini e poi da Cattone, pensate che dittico incredibile, ragazzi di vita e a Cattone. Quando Pasolini arriva, ecco, anche qui, su Roma, nessuno ha l'interpretazione autentica di nessuna città, né di Roma, né di Molfetta, né di Bari, né di Milano, né di Parigi, perché le città sono delle forme così complesse che nessuno può arrivare a comprenderle fino in fondo, non è tanto ciò che tu hai capito della città, ma le corde interiori che la città tocca in te, tu quelle cose lì puoi testimoniare, pensate al fatto di Pasolini, negli anni 50 o anche prima, 40, nel caso dell'altro personaggio che vi cito, due Emiliani arrivano a Roma e vedono due città completamente diverse, uno è Pasolini e l'altro è Fellini, tutti e due dall'Emilia Romagna, uno gira Cattone e l'altro gira la dolce vita, due film che hanno la stessa città come protagonista, ma sono due città diverse, allora Pasolini in Ragazzi di Vita che cosa fa, quindi prima di Cattone, lui arriva, è un figlio di Borghesi Pasolini, il papà era un militare, arriva a Roma e crede di trovare nelle Borgate, probabilmente o forse insomma non è neanche del tutto vero, però insomma lui ci vede nelle Borgate dei luoghi non ancora raggiunti dalla modernità e nei Borgatari vede dei ragazzi che non si sono emancipati ovviamente da una condizione di povertà e anche di mancata istruzione che li penalizza ma sono ai suoi occhi dei puri, sono ai suoi occhi appunto degli incorrotti, Nenetto Davoli, insomma il ragazzo di vita per eccellenza per Pasolini e lui in loro vede quasi una forza messianica perché gli ricordano un passato di cui lui si sente orfano, c'è la famosa poesia di Pasolini io sono una forza del passato sono una tradizione il mio amore vengo dai ruderi dalle chiese dalle palle d'altare eccetera eccetera che è una poesia bellissima i ragazzi di vita appunto hanno uno sguardo secondo lui incantato sul mondo poi passa da Cattone Cattone è un film bellissimo incredibile c'è Franco Citti che è un meraviglioso è la storia appunto di questo Borgataro che si fa mantenere da una prostituta a differenza dei ragazzi di vita a Cattone sa che il mondo è perduto ha il senso tragico dell'esistenza che a loro manca ma a Cattone continua ad avere un rapporto con il passato e anche un rapporto con la morte che invece per noi è un oggetto di rimozione che fa sì che anche nei momenti di disperazione lui conservi una dignità forte dai ragazzi di vita si passa da Cattone si passa a un altro film non più di Pasolini un continuatore di quell'epopea lì è un altro regista meno conosciuto ma che forse conoscete perché ha fatto qualche prima di morire un film molto bello si chiama Claudio Caligari altro appunto non romano che arriva a Roma e negli anni 80 gira questo film che si chiama Amore Tossico che è una storia di tossici di tossicodipendenti è arrivata nel frattempo l'eroina a Ostia vicino Roma ecco loro quel legame col passato non ce l'hanno più sono dei veri disperati non vivono soltanto in un mondo disperato sono dei disperati loro i ragazzi appunto di Caligari e veniamo appunto a questi qua cioè a Marco Emanuel della Città dei Vivi qui c'è un ulteriore elemento di inquietudine rispetto a quei ragazzi senza futuro di Amore Tossico cioè se c'è una cosa che accomuna Marco Emanuel è quella è l'estrema difficoltà questa è una novità di distogliersi da se stessi loro non riescono più a guardare l'altro si guardano in continuazione allo specchio sono due narcisisti questo è come dire una malattia dell'epoca una malattia sociale narcisismo esasperato viviamo nell'epoca no l'iPhone si chiama iPhone non si chiama WePhone e l'io non è più il noi perdere il noi significa essere fottuti fondamentalmente che è la lezione che forse chissà se il Covid ci ha insegnato chi lo sa lo capiremo nei prossimi anni questi ragazzi guardandosi in continuazione allo specchio pensando sempre ai fatti loro non riuscendo a vedere gli altri non avendo più un senso di comunità non sanno manco più chi sono perché noi non ci conosciamo guardandoci allo specchio noi ci conosciamo attraverso gli altri io ti guardo noi ci guardiamo ci riconosciamo delle cose che ci accomunano l'umanità quindi se noi ci riconosciamo come essere umani difficilmente ridurremo un'altra persona a un oggetto come loro fanno con Luca Varani e poi ci sono delle differenze e con questo gioco alternato di differenze e somiglianze uno si crea un'identità loro questa cosa non sono in grado di farla sono appunto due narcisisti c'è un libro molto bello uscito da l'autore è uno psicanalista veramente molto bravo si chiama Vittorio Lingiardi il libro si chiama si intitola un libretto si intitola Arcipelago N dove N sta per narcisismo e lui dice questa cosa qua veramente che poi io ho ritrovato in queste persone lui dice oggi viviamo in un'epoca pensate ai social io sto su Twitter sto su Facebook sto su Instagram viviamo in un'epoca in cui c'è una esasperata esposizione di se stessi è come se ci mettessimo in continuazione in vetrina se non in vendita se non appunto e quindi ma anche perché il mondo funziona così non perché siamo come dire particolarmente stolti e tanto che diventa difficile dice questo psicanalista riuscire per noi psicanalisti a distinguere qual è la linea di confine che separa il narcisismo patologico dall'adattamento sociale e loro Marco e Manuel stanno su sta linea di confine veramente inquietante il problema è che ci stiamo pure noi certo per fortuna non a quei livelli ma appunto quei casi lì patologici sono interessanti perché lì tu trovi una manifestazione ineludibile di ciò che poi invece noi per fortuna la trovi a basso regime ma c'è certo io credo che sia proprio quello che il ragazzo la persona omosessuale che tu hai incontrato coetanea diceva proprio rispetto a questo stacco generazionale che non vuole assolutamente essere paternalistico perché lui assolutamente non lo è però parlava di questo e anche del fatto è molto bello quel brano se riesco a ritrovarlo vorrei vorrei leggerlo perché lui dice che gli omosessuali hanno fatto un un percorso per riconoscersi per avere una una riconoscibilità in qualche modo di se stessi mentre molto spesso i ragazzi non hanno proprio questa possibilità di fare questo questo tipo di percorso credo di averlo trovato dice vivendo in un mondo che in fondo ci disprezza stava dicendo Paolo noi gay abbiamo dovuto fare più fatica per costruirci una grammatica sentimentale ma in loro indicò gli altri ragazzi la mancanza di riferimenti è eclatante la società offre centinaia di modelli vuoti se vuoi sottrarti alla fatica bestiale di capire chi sei è proprio qui il vulnos io credo di questi ragazzi della stessa vittima perché tu poi alla fine del libro fai proprio una riflessione sul fatto che tutti noi temiamo di essere le vittime cioè nessuno di noi vuole mai essere la vittima e quando dici quando uno guarda la foto di Luca lo capisce subito che lui era la vittima del resto lo stesso Manuel quando lo vede entrare pensa che possa essere lui allora tutti questi fili perché questo è come siccome è una storia appunto complicata hai detto tu stesso un'opera d'arte non è un romanzo ci sono tanti plot che si intrecciano però con una visione molto chiara nel senso che tu ci stai dentro tu non giudichi mai tra l'altro questo è bellissimo ti racconti ma non esprimi un giudizio di valore su questi personaggi però nello stesso tempo rifletti rifletti su queste cose sul narcisismo ma anche su te stesso allora che cosa ti ha dato questa storia beh è stato un lungo viaggio come tutti i viaggi come dire secondo me molte cose le capirò anche nei prossimi mesi nei prossimi anni perché questo libro ha degli effetti secondo me a lento rilascio da questo punto di vista sì il fatto di non giudicare è importante ovviamente chi sono i colpevoli è già chiaro è chiaro dall'inizio non è un giallo si sa già dall'inizio chi sono i colpevoli e quindi a quel punto non ha più senso giudicarli oltre ciò che è evidentemente chiaro quindi la cosa importante non è cosa è successo ma perché tant'è vero che questo me l'aveva detto anche il pubblico ministero che mi ha fatto un ragionamento veramente che ti fa essere felice di vivere in uno stato di diritto io poi ho fatto giurisprudenza quindi alcuni alcuni di questi temi sono sensibili lui dice io pubblico ministero questo qua il pubblico ministero ha anche cercato di fargli dare l'ergastolo poi non glielo hanno dato perché non gli hanno riconosciuto la premeditazione lui dice il mio compito non è quello di giudicare eticamente queste persone noi non viviamo in uno stato etico lo stato etico è l'Iran lo stato etico è la riunione sovietica lo stato etico era la Germania nazista l'Italia fascista noi viviamo in uno stato di diritto io devo far applicare la legge non le devo giudicare eticamente anche perché e qui c'è anche un'utilità quando sto davanti a un imputato mi dice il pubblico ministero non mi scompongo mai non mi mostro mai scandalizzato non viassimo mai l'imputato quando mi racconta qualcosa di eclatante anche perché quanto meno si sente giudicato tanto più continuo a parlare quindi ciò che tu guadagni sospendendo il giudizio dal punto di vista etico cioè perdi scusami lo guadagni in forza conoscitiva quindi a me interessava alla letteratura la letteratura se fosse assimilabile a una questione giuridica sarebbe una istruttoria non finalizzata a gradi di giudizio perché la letteratura non non dà sentenze la letteratura non dà delle risposte definitive i romanzi non danno delle risposte definitive devono sollevare le domande giuste è in forma di domanda che funziona la letteratura tant'è vero che noi se ci pensate con i libri i libri che amiamo continuano a interrogarci anche mesi anni dopo che le abbiamo che le abbiamo letti proprio per questo motivo perché non sono dei mondi chiusi non ci sta una sentenza inappellabile la letteratura è quella roba lì che ti fa capire le ragioni di tutti quanti addirittura pur biasimandolo pur considerandolo giustamente colpevole noi riusciamo a capire quali sono le ragioni di Don Rodrigo quando leggiamo i promessi sposi addirittura Dante si commuove davanti a Paolo e Francesca che pure mette all'inferno e che per appunto l'etica del tempo sono indubitabilmente colpevoli oggi non lo sarebbero più ma la letteratura fa questa roba qui cioè cerca di ti 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 dà una specie di amplificazione dei tuoi sensi è come se capisci è come se non capisci è come se senti gli altri il mondo e anche te stesso in maniera più intensa e la capisci più intensa se non la giudichi se la poi appunto sta ai lettori ad entrarsi nei labirinti dei libri e cercare come dire il filo di di Arianna e quindi non c'è un messaggio c'è una ricerca diceva eduardo de filippo ma qual è il messaggio che sta nella vostra commedia ma guardi io se io avessi voluto lasciare un messaggio avrei fatto il postino diceva de filippo e quindi è un po' questa cosa qui sì la mia domanda non voleva dire no ma le mie risposte come dire io sono un amante della digressione quindi non è che rispondo proprio puntualmente alla domanda e va benissimo essere un amante della digressione perché scavo che è il personaggio di cui citavi dice delle cose bellissime proprio nelle ultime pagine del libro ora non voglio leggerlo ancora perché io è un libro che ho finito di leggere da poco tempo ma già vado a rileggere perché ci sono dei punti che sono rimasti appunto in sospeso perché questo libro fa male a volte hai anche fastidio nella parte in cui si parla dell'omicidio di questo quello che ti viene da chiedere ma perché non vi fermate ma perché i due non si fermano no quello che ti volevo però vedi io ci ho pensato ma pensate in piccolo l'ultima volta che vi siete arrabbiati con qualcuno perché non siete riusciti a fermarvi nella vostra collera io lo chiedo anche a me stesso perché è difficile è difficile loro vabbè come dire fanno una serie di stronzate una dietro l'altra che innescano una catena che poi non riescono più a fermare sono appunto tre men la cosa interessante è capirlo anche nel piccolo che poi sembra proprio una scena da teatro dell'assurdo perché si conoscono poco fanno questa cosa insieme che è quasi rituale ma non solo l'omicidio anche il passare i tre giorni insieme vabbè però quello che ti volevo chiedere siccome in questo libro ci sei tu c'è la tua voce tu parli in prima persona indaghi ci sono i personaggi che presenti per cui racconti le loro storie e proprio li presenti con nome e cognome come le loro testimonianze però ci sei tu c'è tua moglie c'è la tua vita quello che fai il lavoro a Torino cioè tutto questo come si è come dire avvinghiato a questa storia perché sembra che ci sia un'attrazione fortissima nei confronti di questa di questa storia cioè ti ha coinvolto profondamente beh sì altrimenti come dire non sarei stato tutto questo tempo a seguire sì risuonava in me in maniera evidente però ecco come si fa forse la domanda è questa perché è ovvio che mi sembrava una cosa molto interessante molto urgente più che interessante ecco poi c'è sempre un pericolo quando tu ti occupi di queste storiacce c'era il famoso detto di Nietzsche se guardi attenzione guardare troppo nell'abisso perché poi è l'abisso che guarda in te allora qual è la protezione che uno deve avere secondo me scrivendo occupandosi queste storie perché stare dietro quattro anni in una storia così brutta è come dire è facile ossessionarsi o è facile cedere pure al voyeurismo che invece è una cosa che in qualche modo ho cercato di evitare però nel libro non c'è voyeurismo allora dicevo per me la prima parte della scrittura è stata forse quella più complicata perché era quella della ricerca come stavo dicendo prima e quindi quella in cui dovendo avere a che fare con tutte queste persone toccate da una vicenda così tragica era come dire un vero corpo a corpo però era come stare proprio immerso fino al collo nella faccenda se stai immerso fino al collo nella faccenda del genere ne senti l'odore per così dire ma non riesci a metterla a fuoco per metterla a fuoco la devi un pochettino distanziare come tu faresti con un foglio scritto e la mia come dire strumento di distanziamento è stata la scrittura la scrittura in qualche modo ha raffreddato ciò che altrimenti sarebbe stato sin troppo ribollente e ha dato una forma a ciò che altrimenti sarebbe stato in forme quindi da una parte c'era l'urgenza di cui tu giustamente parli ma dall'altra appunto c'era questa protezione diciamo e questa messa a fuoco che invece è data dalla scrittura posso chiederti una cosa che prescinde dalla città dei vivi coinvolge la ferocia e coinvolge anche riportando tutto a casa ti interessano sempre le storie estreme le storie che in qualche modo mettono in evidenza in maniera drammatica con una linea rossa quello che sta accadendo perché? allora perché? perché la letteratura si occupa di situazioni problematiche se Capulete e Montecchi non avessero litigato Romeo e Giulietta finiva proprio a pagina 3 se Don Rodrigo non si incazzava eccetera eccetera quello Don Abbondio sposava Renzo e Lucia e i promessi sposi manco è se le streghe non avessero detto nell'orecchio di Macbeth guarda che un giorno sarà il re e gli mettono in testa il fatto di ammazzare il re e il Macbeth pure non ha come diceva Donato Lostoli di Anna Karenina l'incipit forse più famoso o uno dei più famosi delle storie della letteratura tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo ogni famiglia infelice è infelice a modo suo e noi scrittori ci occupiamo delle famiglie infelici non perché le famiglie felici non esistano ma perché con le famiglie felici non ci si fa manco un brodino di narrazione e mi dispiace la letteratura come dire indaga sti fatti qua c'è sempre un conflitto certo a un certo punto c'è che ne so in Francia nacque l'Ecole du Regarde dove c'erano questi scrittori che fondamentalmente raccontavano il lampione ragazzi però 150 pagine sul lampione sottoste per quanto raccontato in maniera sublime eccetera eccetera oppure anche uno scrittore che io amo molto Raymond Quenot scrisse esercizi di stile c'è la stessa scena ripetuta un sacco di volte pure quello veramente un grande esercizio di stile però dopo un po' non lo leggi tutta una sera pensate Dante non è successo niente nella città dei vivi rispetto a Dante che va nella città dei morti poi nel purgatorio nel paradiso c'è come dire una esperienza di ego dissolution che forse solo con l'LSD e con la vidivina commedia si può riuscire ad avere nel 33esimo canto del paradiso addirittura questo esce fuori da se stesso in una maniera eclatante dopo aver visto il diavolo a testa in giù in un lago di ghiaccio cioè ragazzi la letteratura fa delle robe incredibili e quindi si occupa però di vicende un golino che si mangia i figli cioè voglio dire cose veramente pazzesche oppure vogliamo raffreddarla un po' e non parlare della letteratura fantastica un libro che avevamo moltissimo l'anno prossimo saranno i cento anni della nascita di Fenoglio una questione privata di Fenoglio la resistenza raccontata come storia cavalleresca dove appunto c'è un partigiano che forse l'amico gli ha fregato la fidanzata ma è stato catturato dai tedeschi allora lui va a chiedere il riscatto ma non per salvare l'amico ma per sapere se veramente lui è stato alletto con la sua fidanzata insomma quando pure sono situazioni che nascono in maniera molto quieta Anna Karenina poi quella si butta sotto un treno non credo di aver fatto come si dice lo spoiler dicendo questa roba qua no credo di no quindi la letteratura si occupa di solito di solito 99 su 100 di queste questioni qua e quindi sì perché ci sono anche scrittori anche contemporanei insomma che raccontano di cose quiete che non non muovono che raccontano con stile ora non stiamo a soffermarci però è interessante secondo me il tipo di conflitti che tu scegli nei tuoi romanzi e soprattutto il modo in cui li racconti cioè con questa scrittura concreta a volte quasi medica come se fosse una penso alle formiche della ferocia o altre cose veramente molto interessante perché comunque riesci a tenere incollato alla pagina c'è un'ultima domanda che vorrei farti se non ci sono anche volontà da parte del pubblico di sapere qualcosa su questo libro davvero molto intrigante le domande nel caso voi le fate dopo perché c'è la barriera dei fiori diventa complicato porgere il microfono poi facciamo dopo ed è il padre di Luca fiori di vetro si chiamano il padre di Luca che a un certo punto dopo aver visto il cadavere del figlio riconosciuto il cadavere del figlio dice che loro hanno passato il segno la barriera mentre lui sta ancora là e questo lo nota perché vede che sul volto del figlio ci sono tanti piccoli tanti piccoli segni cioè non le ferite che lo hanno ucciso ma altro che cosa volevi dirci con questo? è lui che dice qualcosa in questo caso il no è una scena veramente molto insomma molto forte quando lui è costretto ad andare a riconoscere il figlio all'obitorio vede appunto questi tagli fini fini oltre alle ferite che l'hanno ammazzato e capisce che quei tagli non sono la causa della morte ma potrebbero essere il motivo della morte perché al dice allora si sono voluti divertire no la cosa però interessante che ecco questo invece dal punto di vista etico ho trovato molto alto da parte del papà di Luca Varani è che lui non definisce mai o quasi mai mostri non definisce mai che sono dei mostri gli assassini del figlio dice hanno fatto qualcosa di mostruoso ma non sono dei mostri sono degli esseri umani ed è qua che devono tornare cioè nel senso noi di solito trasformiamo con molta facilità i colpevoli in mostri questo lo fa il discorso pubblico la letteratura è il contrario del discorso pubblico discorso pubblico discorso pubblico è un discorso come si dice oggi polarizzato cioè da una parte i buoni dall'altra i cattivi dalla parte le vittime dall'altra i carnefici noi siamo sempre dalla parte dei buoni e mai da quelli dei cattivi questo dovrebbe essere abbastanza sospetto visto che invece la letteratura ci ricorda che siamo uomini e donne contraddittori complicati complessi violenti frustrati deboli spaventati eccetera eccetera e quindi noi però ci conviene immaginare che il colpevole sia anche un mostro perché se non ha una testa due braccia due gambe come noi noi che siamo un'altra specie non potremo mai commettere azioni cattive mentre noi azioni cattive le commettiamo non diventiamo assassini per fortuna ma non dobbiamo pensare che quella roba lì non ci appartenga perché lì allora proprio impoveriamo qualunque discorso e soprattutto ci tiriamo fuori da ciò che invece ci riguarda e da questo punto di vista il fatto che il papà di Luca Varani questo esercizio di complessità l'abbia fatto a differenza insomma di tutti i vari leoni da tastiera che in quei giorni lì si erano scatenati nei modi che potete immaginare vi fa capire che se un ferito a morte ha una consapevolezza maggiore rispetto a uno sfiorato a uno che manco è stato come dire sfiorato da lontano da una tragedia del genere e allora questa dovrebbe essere forse una lezione per tutti per tutti quanti noi ultima cosa ultime due cose i media e il loro il loro accendere i riflettori appunto sui mostri e poi il turista olandese che è la normalità del male in qualche modo o sbaglio sì avrei un altro file forse troppo tardi sì mi serviva c'è anche un personaggio un po' inquietante che si aggira in questo libro che è un turista olandese che è dedito a traffici più che illeciti che ho messo lì oltre per il fatto che comunque anche quello fa parte di un episodio di cronaca che ha ricordato la città in quegli anni ma mi serviva uno sguardo esterno sulla città che è uno sguardo predatorio perché Roma è sempre disposta a farsi derubare ma poi magari è lei che ti prende più di quanto tu credi di averle derubato e per quanto riguarda i media sì i media non ci fanno di solito una bella figura quando devono trattare questi soprattutto la televisione devo dire i giornali un po' meno perché i giornali come si dice i giornali male subito cioè se io fossi stato un cronista anziché uno scrittore avrei dovuto scrivere un pezzo oggi per domani quindi avrei avuto meno tempo per occuparmene e poi i giornali oggi hanno veramente molte poche risorse rispetto al passato voi pensate Repubblica Corriere della Sera vendevano 600.000 copie al giorno vent'anni fa oggi si arrivano a 100.000 e grasso che cola quindi hanno molte meno risorse per fare per esempio le inchieste e quindi il giornale tutto sommato non dico che le assolvo è la televisione appunto forse il problema da questo punto di vista perché invece la televisione ha dei grandi risorsi per fare degli approfondimenti e invece tratta questi casi spesso in maniera scandalistica persino la regina diciamo così di queste cose qua che è la Leosini tutti i miei amici amano come dire alla follia della Leosini io molto di meno perché è sempre su una posizione di superiorità rispetto all'imputato al carcerato a cui si rivolge gli fa le battutine insomma non mi sembra che lo sembra una cosa fatta per divertire gli spettatori non per farli veramente pensare o meglio per fargli sentire delle cose quindi insomma i media non ci fanno una grande però ci sono i libri i libri grazie al cielo hanno resistito ecco la cosa abbastanza interessante forse questo potremmo forse chiudere con questa considerazione che è una bella considerazione cioè durante il covid abbiamo letto di più è successa questa cosa abbastanza imprevista per un paese in cui si legge poco come il nostro per ragioni storiche abbiamo letto di più per tanti motivi forse perché un libro ti offre complessità e coinvolgimento emotivo in fondo a basso costo cioè costa meno di un viaggio costa meno di un corso di yoga che ne so e noi appunto quanto sia complesso il mondo in cui viviamo ce ne siamo accorti le nostre spese e quanto emotivamente siamo stati scombussolati pure in questi anni e mezzo abbiamo scoperto le nostre spese poi forse abbiamo avuto ci sono anche altre ragioni anche lo smart working il fatto che abbiamo lavorato a casa ci ha dato più tempo ci ha dato più tempo forse avremo un po' più di tempo libro che ovviamente non è che impieghiamo soltanto leggendo libri perché ci sono tante altre cose che si possono fare però quella roba lì anche ha inciso questo libro Umberto Econo diceva il libro è come il cucchiaio è come la bicicletta è un'invenzione perfetta difficilmente è migliorabile il cucchiaio si puoi cambiare la forma ma il cucchiaio quello è è il libro effettivamente dato da un secolo a questa parte come anche la forma come anche la forma romanzo per morto alla fine quindi i libri se la cavano sempre bene allora comprate questo libro soprattutto leggete questo libro che nel quale vi ritroverete anche perché è un delitto di persone normali non perché noi dobbiamo commettere dei delitti ma perché all'interno ci sono tante storie perché quello che dicevo prima è anche qualcosa che ci riguarda perché è un'analisi socio-psicologica se vogliamo bene è un libro meraviglioso un altro libro meraviglioso di Nicola La Gioia è soprattutto scritto in una maniera sublime una grande letteratura senza definizione un'opera d'arte un'opera letteraria grazie grazie mi hai fornito l'assist per poter dire a chi ne ha voglia di poter acquistare il libro e poi accomodarsi a firmacopie con Nicola La Gioia si chiude questa prima delle tre serate di conversazioni dal mare è stato un piacere averti qua io ti libero subito così vai nella zona del firmacopie mentre mi accingo a partire con i saluti quello è tuo grazie grazie a Giussi Fra Leonardo grazie mille per aver dialogato con lui siamo veramente in chiusura vi ricordo che domani sera secondo appuntamento con Verone Gabbriganti con Sigfrido Ranucci con Yuri Chechi che saranno ospiti qui con Vito Cozzoli un grazie al service audio e luci alle forze dell'ordine alla Croce Rossa però permettetevi prima di andare via di ringraziare e salutare il gruppo che con tenacia e costruisce questo evento perché ci vuole e abbiamo bisogno di più cultura il gruppo di lavoro Artemia Giulia Murolo Alessandro Camporeale Giacomo Piepoli Paola Mastropasqua Giulio Calvani Rossella De Cicco Nicola Camporeale Gianluca Pallombella e Luca Petruzzella poi c'è un mare di volontari che ricorderemo nei prossimi giorni grazie quindi ad Artemia grazie al Comune di Rimolfetta al Consiglio regionale della Puglia al Ministero della Cultura e poi all'Università di Studi di Bari Camera di Commercio e Città Metropolitana di Bari grazie a tutti ci vediamo domani sera ore 20 per il secondo appuntamento di conversazioni dal mare buonanotte grazie a tutti grazie a tutti a tutti a tutti a tutti